Che faccio io a farci con voi che riusciteva lì? Fatti i bestelli Io vado a me niente ragazzi, si plonna e na Plonna e na? Ok Ho fatto una da su A Nessuno Su A o una mi sa No Forse gelataio eh Sta andato uno Planno Ok Aiuto Pure gelataio Arriva uno da sotto a casa lunga Uno da lungo vita quindi Uno dietro vicino da A Ma che culo Dietro cassonetto Ah ok Down Defusing Ho salito Mamma mia Ma io sono giocatore di Q4 ragazzi Ah Citazione Wow Spawn L'ho visto Cazzo Il nostro spawn Camperato E' trovato dietro Un motore swatch Ed Bagna Per ero Pain Qué Sotto i tè. Sotto i tè. Cazzo è la casa verde? Quora lì? Quora lì? L'hai visto? No, no, finestra, sempre qua. Stanno? No. Sì. Bravo! Dai a planare su Anno, se lo aspetta. Guarda che poi questi non planano, quindi. Ti consiglio di andare tutto quanto a te. Ecco, bravo. Oh, però non. Mike قال a me per vizi dove si vuoi con fortuna al fatto! Dicono Restraーン e ricordate la vigna. Ring key. Quando mi rலino lo誉 a, hai ultima. Come in. Wow, il ducto. Ciao, consulta hindsight. Non ce la fa più Plan player Lan bro Salta al cervello Più di fiumità Direi plan su A Vedi si Tenti un po' B ragazzi Guardo scale mid Nice Eh guarda di che ce ne sono sicuro tanti E sono in 5 anni Uno sta filmando Vai na vai na E' da un quale lì Vanno Probabile il nostro spawn Uno Casamattoni Ecco è in A Casamattoni Last Ho cercato No no Mi copri lungo A Fine Dov'è che sei Si Stannato No Stannato io No 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 Avete stannato me Fine Aimbot Stanno cercando ma non ci riesco Stanno cercando Gentleman Tolman Spiggete di un po' Guardo B Guardo mid No sono calamattoni Eh vai su A Mid clear Non so calamattoni Non so calamattoni Oh ma su A mi ha preso Non so cosa hai fatto Marijuana Eh Stava No Stava su A comunque Ce ne sono altre due Ce ne sono altre due eh Dai Dai Non hai tanto time eh Vabbè Mi sembra un po' strano sto gioco Guarda Ho spavato comunque Lì non c'era Io vado a scuola B Io vado a scuola B Io vado a scuola B B Barivano Tutto lui Ho tirato un'altra scusatemi se vi chillo Qua un dove? Ah è qua Non killarmi No era mio Stava passando sotto Rav the game Bomba sta A posto Ma che cazzo ci fa a lei? 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 Non ha senso chiamarlo Ma torr'omai abbiamo vinto Che ma parletta? C'è una cosa di competitivo Tipo vacante Stai scherzando? Che non c'è un complaggio di vacante E non ce l'ho pure neanche scherzato Sto scherzando Mettiamo Tutto ma non skip No Ma che ho Fuel Fuel Mi sa che non ce l'ho Mi prego fuel Mi sa che non ce l'ho La mappa Facciamo Crash Oh terminal Terminal Stai No Pint 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 Mauro Eh vabbè Poi si la mette che c'è solo Piano salvo due Ok Ti trattiamo così Lamp player Con your tits Io voglio provare Lo sapete che Ah io su terminal Proprio devasto Quindi no problem No no Veramente No Noi L'avete fatto screenshot Eh no Oh noi Spezza Noi spezzinazzi Dai Così li massacrazi Lol Ared Proprio Mangiato Eeeh Non lo scordete Vedi Vedi Perché non lo avete scritto Ragazzi Ma cosa gli hai detto Clint Cosa gli hai detto Lamp player Calm your tits Ma calm your tits Non è un insulto Nel senso Calmati Rilassati bro Spezzi Sopra Sopra Femi Femi tutti No ormai Io sono allo spawn Sopra No 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 Io vado Su a diretta Sopra 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 Io vi ho detto Che aprivo A Copritemi Un secondo Sopra 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 Guarda Librioteca Wow down down Bello Nessuno spau No Spau Area Scusate Dove? Chi è che ha tirato stun? Io Dove? Questo 1-0-0 1-0-0 1-0-0 0-1-0 Linchia, mega beat Dai, torno ancora su A Stavolta copro lungo A Perché stavolta verranno su A Perché sono prevedibili come lo schifo Infatti, è stato lungo A Arriverà Ti copro a destra Assista, cli, ti copro la media Ok Ragazzi, non mi devo arrivare da dietro Quindi, per favore, coprite Il punto di discesa Con l'aereo, no, non scendono le scale Non tornano più su A Eh, lo stavo per far fuori io Dov'è allo spawn, signori? Il pro land player allo spawn Meggordi crash, occhio, arriva su A1 E lo fa a Meggordi se è FK Certo che è anche Vai su A, fine Depp può arrivarti a lungo A Probabile Io sono una pianta Pianta mode activated Mauro, no Don't do that È proprio un posto di merda questo Non te fai, ma te vai benissimo Tanto non ha te che se turro lui Hai visto? Su A, su A Goal Oh, Mauro vai subì, io vado a sciuare Merda Libreria Che ha fatto di brutto Attraverso il muro Ti ha fatto wallabango Sì, sì, sono in A Meggordi Dietro, dietro, dietro No Tranquillo Che culato Quello è culato forte Peccato Ma hai pulato forte uguale Eh, ma è questo il problema delle stanche Riesci a vederlo stesso Sono meglio le stan delle flash in quel caso In questo caso avrei preferito una flash Però vabbè Andiamo su a Zai che è l'imartorio Una in fondo a sinistra Guardo che non vengano da dietro Ma cosa? Sopra ragazzi, sopra scale, dai Due su A, dai Una in fondo a sinistra Ma perché non mi ascoltate? C'è Gordi C'è Gordi Una lì E una sopra Destra sopra una Sì, una lì Non ho neanche visto Che schifo ragazzi Beh, più o meno quello che ho fatto io prima Ok, ma tu eri uno Loro sono quattro Andiamo a B In fondo aereo Hittato Eh, ma che fulati In fondo aereo, dai Eh? Niente Eh, sta in su aereo Hai visto? Sì Arriva da dietro di te, Gordi C'è È passato Eh, ha fatto Ok, devo ararli Guarda su Mega rush Mauro, tu stai indietro Io ho rush Trovo anch'io Sono nato in scale Una down Non so dove sia Ma plan Dai, mid, raga Ma dove siete tutti? Dai, uno contro tre Oh, prova a planare Copritemi per favore Oh, niente Vabbè Bella Ho capito che rush o veloce Però coprite Io vado Io vado su Io vado su Io vado Dietro l'aereo Io vado sempre su Araga Anzi, vado sopra l'aereo Qualcuno guardi sotto Guardate mid Per favore Perché Che culo È sempre liberia Arato Arato Mi ha sparato appena prima Che lo stannasse No Gli ho fatto hitmarker Subì Eccolo Lui è sotto Bombolona È visto Good job team GG Campur Guardate mid Io ve lo dico Guardatelo Ecco per a lungo A Dimmi Chiamali Lol Sono passati in due Sotto B Arati Anzi Aratori Come dice Ma sì Guarda Questo ha un timing Guarda che E se lo infilare il culo È peggio dei marocchini Planta sua E vabbè Ma che ne sa L'hai visto salire? Guardi su B Guardi su A o su B Uno su A Uno su B Depp a minimo Sta campanando in fondo a destra Eh te l'ho detto Però no Guarda che non mi hai detto niente Non si capisce No no Guardi No che urla Per me è dietro la colonna a destra Bella Comunque Clint non è che voglio darti contro Semplicemente ti giuro non l'avevo sentito No no ma non ho detto a te Ho detto a Gordi L'ho detto molto prima Non vado dentro l'aereo Di nuovo Rush a lungo Nota che non vengono mai Qualcuno mi guarda sotto l'aereo Per favore Sono il loro spawn Eh l'ultimo allora Il loro spawn No 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 ancora no Facciamogli il settimo Prendo bomba per l'antena Mi raccomando screenshot Sono io Sotto a Lungo cosa Sotto a Digli di no Digli di no Digli di no 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 Digli di no Per favore Perché Come ha detto Come ha detto Gepp Mai farlo Come dire Bisogna fare Sangue freddo Ste cose Ma questi Fanno cagare Possono clan Decenti Quanto scommetti Che adesso Almeno due di loro Attivano texture O qualcos'altro Ma va Non puoi attivare Le texture Senza chiudere il gioco Esatto Che cazzo fa Depp Sì ma io adesso Non posso Vado via E sono già In ritardo Jason Vai Jason Va bene Scusami se ho scritto Ma secondo me Non l'hanno mai Fatta così Cioè Secondo quello Che dice Jepp A meno io Mi sono un po' Fidato Comunque devo Andare via Tra l'altro Quindi prova a chiedere A Simone Se c'è Sentiamo stasera Ciao Vabbè Ciao 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 dov'è? oh da te il top power a jason povero cristo oh dai vuoi anche chiudere la server ragazzi a dopo io vado facciamo